Ciao creatura, io sono Eca di Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guvai e S.M.A. Buona domenica, grazie per essere qui, anche questa domenica, che sia una domenica di pennichella pomeridiana oppure una domenica sera, va bene lo stesso. Andiamo avanti insieme con questo gioco molto rilassante e anche abbastanza semplice, forse per quello che è rilassante perché è semplice da fare. Ho letto tutti i commenti, ho visto che comunque anche se era difficoltoso essere svegli e scegliere, comunque ti piaceva farlo e quindi torniamo anche oggi con una scelta. Vedremo dopo, se no ricordo male, eravamo al giardino, andiamo a vedere. Eccoci qua, eravamo usciti qua al giardino, dove vanno? O l'esterno, forse c'era da scegliere l'esterno della casa, hanno scelta importante questa. Che tempo c'è da te? Da noi c'è caldissimo, tipo 38 gradi, ma in teoria è il giorno che sto registrando, che è giovedì, dovrebbe piovere in teoria la sera, ma a me non sembra proprio, perché non c'è neanche una nuvola nel cielo. Allora, quindi, avranno detto pomeriggio sera, sono già le due del pomeriggio e ancora non c'è una nuvola, quindi non so se pioverà. Sono la ECAT del futuro, è la seconda volta che faccio la registrazione di questo audio, diciamo anche la terza, dato che avevo fatto già un video, il video in sé, poi sono registrati solo due minuti, e che sono quelli che hai sentito fino adesso, e poi dopo ho registrato 40 minuti di audio, e tutto praticamente il pomeriggio perso così, perché non si è registrato nulla, e adesso sto facendo un altro, un altro, speriamo che adesso vada, e sto ridoppiando di nuovo questo video, speriamo bene, e non so, è un mese che mi succedono solo sfighe, una dietro l'altra, eppure ci sto sempre attenta, ma non niente, Speriamo che la faccenda qua migliori, ecco, e adesso io non ho voglia di ripetere, 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 di nuovo tutte le cose che ho detto, quindi riimproviserò un altro doppiaggio, Sperando che si registri a questo punto, spero che si senta anche bene, perché se mi metto le cuffie sento l'eco, e infatti prima non si sentiva, ed è infatti non ha registrato un colpo, non ha registrato, vabbè, e sto registrando con lo zoom h4, tramite il pc, e niente, allora qua ormai abbiamo sistemato tutte queste, questi oggetti, questa carta, le matite, i pennelli, e i portaoggetti, porta cancelleria, e vabbè è andata così, spero che almeno ci sia l'audio, stavo pensando di fare una pausa da youtube per la domenica, visto che è successo questi imprevisti, ma adesso c'è scarta la carta, scarta la carta, e abbiamo trovato questa fontanella orribile, che non so se si potrà mettere in giardino, bene, e basta un'obicità, quindi andiamo direttamente a casa, a vedere, io pensavo quasi al dato basso il giardino, invece ci fa scegliere la scala, la scala qua, onestamente quella bianca non mi piaceva, mi piaceva di più questa, però poi mi sono accorta che non avevo abbastanza diamanti, e mi sono sentita povera anche nel gioco, e questo non succederà mai più, già mai, e infatti a male appena arrivò a 50 diamanti, quindi per forza ho dovuto scegliere la scalinata numero 1, e vabbè tanto in realtà non ci stavano, nessuna delle tre ci stava bene, quindi va bene lo stesso, e adesso con calmo arrivo a Jess, ci dice quello che ne pensa, i vecchi scalini erano una vera trappola per corrieri, spero che ora i corrieri inizieranno a consegnare i pacchi alla porta, invece di lasciarli sul ciglio della strada, Allora, andiamo a conquistarci le altre 5 stelline, perché dobbiamo scegliere la ringhiera da abbinare alla nostra scalinata, io qua come al solito Chloe sei di carchiaci dai solo 10 diamanti, quindi io preferisco Jess, che è un po' più generosa. Adesso dobbiamo mettere tutte queste scarpe, sandali, magliette, pantaloni, reggiseno, reggiseni, mutandine, calze, perché mi sa che queste sono calze rotolote, la cosa è venuta l'avvolgorazione prima quando facevo l'altro audio, che poi non è andato registrato, adesso mi sto venendo l'ansietta, che sto facendo altri 40 minuti a vuoto, quindi mi sa che tra un po' lo stoppo, tra l'altro ho anche chiuso la finestra, sto morendo di caldo, ma dettaglio, e niente, col senno di poi avrei gestito la situazione diversamente, cioè magari avrei messo le mutande, perché dopo ne escono un sacco di diverse, e il gioco le vuole una sopra l'altra per colore e tipologia, col senno di poi avrei messo magari tutte le cassetti a sinistra, tutte le mutandine, e magari le cassetti a destra, le calze, i reggiseni, però quando me ne sono resa conto avevo quasi finito il livello, e non avevo più voglia di rifare tutto, e quindi va bene lo stesso, tanto poi le tre stelline ce ne andate comunque, va bene così, adesso faccio una pausa per vedere se sto registrando, ok, ho perlomeno aperto la finestra, e spero che tu, che non ti diano troppo fastidio le cicale, però non si respira, avrebbe dovuto piovere, ma in realtà non ha più avuto un bel niente, e quindi niente, c'è più affa di prima, comunque qua, stavo decidendo come sistemare i reggiseni, mi sembra poco salva spazio il fatto di mettere 4 reggiseni per cassetto, però questo gioco non è come unboxing, quindi non possiamo pretendere troppo, non possiamo pretendere la precisione, tra l'altro è una cosa che non ho detto negli altri audio, ma che tanto non sentirai mai, quindi pazienza, mi sono uscite delle pubblicità di giochi, e ne ho scaricati alcuni da provare, come per esempio dei giochi di simulazione, uno di una boutique, e uno di un negozio, tipo supermarket, e mi è piaciuta l'idea, perché c'era tipo, dovevi stare in cassa, passare i prodotti, e mettere anche, dare il resto, effettivamente, contando tu le banconote, le monete, cosa per cui io non sono portata, quindi mi farebbe un po' da, mi dovrei schillare a questa cosa, anche se non ho intenzione di fare un lavoro in cassa, e anche se di recente ho fatto un corso per operatori di segreteria, ho imparato a fare le fatture, però non mi sento portata per fare un lavoro del genere, potrei far fallire l'azienda forse, non lo so, meglio di no, io e la matematica non siamo proprio una cosa sola, anzi, siamo proprio due pianeti distinti, comunque, con il seno di poi, però, siccome allora, esiste un gioco, su Steam, che è senza pubblicità, perché se quello che ho scaricato è pieno di pubblicità, non ci conviene farlo, perché anche questo è molto bello, ma non è rilassante per me girare questi episodi, a parte che non si è registrato l'audio, l'ho dovuto fare tre volte, questo non è il massimo, anche perché non avevo tanto tempo oggi, quindi questo è un conveniente, è un casino, poi, ma questo non è un problema tuo, e poi lo stiamo già risolvendo, quindi a posto, c'è simile, mi pare, su Steam, e potrei anche pensare di acquistarlo, se è bello, magari lo provo un attimo così, su, sul computer, questo qui, gratuito, e se dopo è simile, potremmo prendere, cioè, sia quello della boutique, appunto, dove gestisce un negozio, di abbigliamento, sia anche il supermarket, ti piacerebbe di più il supermarket, simulator, da vedere, che mi fa tornare in mente il gioco, quello dell'Ital, che però era più, più easy, quello da telefono, questo è un po' più complesso, perché, devi acquistare i prodotti, dopo devi pagare le tasse anche, quindi devi avere tutti i soldi, per acquistare i prodotti, acquistare, gli scaffali, le cose, i camerini, dopo devi avere i soldi, per pagare le bollette, l'affitto del negozio, e poi devi sistemarti il tuo negozio, come meglio credi, rifornirlo sempre, man mano che vendi le cose, stare anche in cassa, poi da quello che ho capito, che man mano che tu, procedi con i livelli, puoi anche, fai più soldi, diventi più ricco, fai il cash, fai money, e, puoi anche assumere una cassiera, eccetera, eccetera, quindi, non lo so, mi sembrava carino, mi piacciono i giochi gestionali, perché, a me rilassano, so che magari, alcune persone possono, rendere nervosi, invece a me rilassano, ovviamente, senza 4.000 pubblicità, come questi, per quello, opterei piuttosto, di avere la pubblicità, di acquistare proprio un gioco, che così, non ha la pubblicità, è nostro, e basta, e si può fare anche offline, magari, non lo so, in realtà, quelli di Steam, si possono fare offline, abbiamo quasi posizionato tutto, io vengo dal futuro, quindi so già che, non avrò sistemato bene, dei reciseni, perché, alcuni non li troverò, dirò dove li ha messi, ma adesso lo vedrai tra poco, è un grosso spoiler, quindi, è tra poco arriva, è tra poco arriva, e qua, in realtà, sembrava tutto ok, però effettivamente, mi rendo conto, che manca un recisino, bianco e nero, trasparente e nero, e vedi, infatti, qua mi dava tipo, l'errore, e dice, ma dov'è? E quello lì, vedi, bianco, trasparente, nero, blu, che quello lì è? Dice, ma dov'è? e ho tolto quelli, perché non lo vedevo, non capivo, dov'è? 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 Eccolo qua, beh, adesso, lo risistemiamo, e poi, ci prendiamo le nostre tre stelline, ok, adesso andiamo a scartare la carta, ovviamente, guardo altre pubblicità, perché voglio essere ricca, scarta la carta, scarta la carta, concentrati, scarta, eh, non ti sei concentrato abbastanza, creatura, prossima volta concentrati meglio, perché abbiamo provato proprio un premio brutto, eh, te lo dico, è tutto, sta in quanto ti concentrerai tu la prossima volta, ok, adesso scelgo io, la ringhiera, no, perché ci vogliono, cinque stelle, invece ne ho solo tre, e ora andiamo a guadagnare le altre, qua abbiamo tutti i prodotti che riguardano il beauty, prodotti di bellezza, lì per lì pensavo fossero prodotti di belle arti, tipo, spray, vernice spray, cose del genere, invece poi mi sono resa conto, soprattutto con questi qua, sono quei rullini, che saranno per piallarti il viso, per massaggiarti il viso, allora questa sarà l'h, o non lo so cosa, boh, non c'è dato a saperlo, quello la sarà tipo sapone, boh, non lo so, non c'è dato a saperlo, questi sembrano quei kit, quelle box regalo, dove hanno tante cosine, tipo cremine, non so, diodoranti, saponi, saponi, sì, saponette così, che puoi regalare, che sono sempre un bel regalo, andavano più di modo magari negli anni 80, non so, in 90, ma sono ancora utili, quando non conosci una persona, regali una cosa così generica, per lavarsi, anche lì è difficile, perché bisogna sapere, i gusti, però dai, più o meno, si va sul sicuro, con cose, panalotte, ecco, poi abbiamo queste cremine, anche il primo, bianco e verde, sempre, che ti infrigge, però sicuramente, quello al centro, è olio d'arcan, al profumo d'arcan, perché è sempre quella colorazione lì, ok, qui abbiamo i nostri rollini, con le nostre creme, qua abbiamo le nostre lacche, potrebbe essere, shampoo secco, se non mi piace l'idea, che sia shampoo secco, e abbiamo finito, yeah, bel lavoro, qua si va a guadagnare diamanti, come al solito, e poi, come al solito, scarta, la carta, scarta, la carta, scarta, ma, creatura, non ti sei, sforzata abbastanza, perché abbiamo trovato, una statuetta, con un pipo di fuori, cioè, potevamo avere il computer, portatile, abbiamo vinto, la statuetta, col pipo di fuori, cioè, renditi conto, di questo affronto, che ci è stato fatto, questo, questo me lo leggo al dito, allora, adesso andrò a scegliere male, ovviamente, la ringhiera, premettendo che non me ne piaceva neanche una, vabbè, questa è proprio no, questa è brutta, troppo minimal, questa qua ho scelto alla fine, bruttissima, tanto non ce ne stava, cioè, non ci stava di nessun tipo, wow, benvenuto a una ringhiera senza schegge, loro sono sempre contenti, una volta ci si, prendeva una scheggia, solo guardando il portico, ecco, adesso io qua, inizio un plot twist, dove io volevo, farti scegliere questo, scenario, no, perché, dal mio punto di vista, sembrava, che ci potesse essere, una piscinetta, un laghetto, una fontanella, qualcosa del genere, quindi adesso, mi vado a guadagnare, stelline, pensando di farti scegliere, questo è stato il mio preferito, ovvero i pasticcini, si vede che controllo, se storici, qua anche, mi ricordo, ti ho raccontato un aneddoto, che adesso te lo racconto, e sono stata anche lì, a posizionarli in modo estetico, secondo il mio punto di vista, alternando, il doppio colore, con il monocolore, e ho fatto la stessa, identica cosa, dall'altro lato, e questa cosa, secondo il mio punto di vista, li rendeva ancora più, appetitosi, più buoni, allora dopo, andrò a posizionare, i lecca lecca, i chupa chups, che in realtà, sono lecca lecca, perché chupa chups, è la marca, vabbè, allora, io, quando andavo al bar, trovavo, quei, chupa chups, giganti, di plastica, dove andavano infilati, tutti i piccoli, chupa chups, credo, ci siano ancora quei, dispenser, non so come si chiamano, andavo, li guardavo uno a uno, perché cercavo il mio preferito, che, solitamente, aveva, la carta blu, e non è quello la Coca Cola, aveva la carta blu, ma c'era disegnato, un Crank Caramel, ed era, penso, il gusto del Crank Caramel, appunto, buonissimo, buonissimo, c'era questa specie di pudino, con, chissà se esiste ancora, con sopra il caramello disegnato, pensandoci adesso, non credo che lo mangerei, perché, era mega dolce, però una volta, o mangiavo quello, o non lo mangiavo, che bello, adesso, non so, quale prenderei, forse qualcosa di fruttato, la Crank Caramel, penso, sarebbe troppo succhevole, e dolce, a tua mente, però, magari, lo rimangerei solo così, per, riassaporare quel gusto, il tuo preferito, qual è invece, creatura, questo è stato veloce, siamo state bravissime, scarta la carta, mi raccomando, concentrati, dobbiamo trovare una cosa bella, scarta la carta, scarta la carta, va bene, creatura, ti sei abbastanza concentrato, dai, questo l'accetto, brava, creatura, non devo ammettere, molto, molto brava, abbiamo trovato un quadro, con una signorina al mare, dobbiamo, per forza, fare un'altra partita, perché ci serve, la quinta, la quinta stellina, e quindi, per forza, andiamo da Jess, che ci, regala anche, delle ricompense, più corpose, allora, abbiamo il frigo, delle meraviglie, andiamo a posizionare, il latte, questo, decido io, sarà il latte alla fragola, perché c'è una mucca, c'è del rosa, poi c'è questo prosecco, poi c'è del formaggio, sì, proprio scatole di formaggio, questa è stata la mia caviglia, che scrocchia, mi scrocchia tutto, nel video di venerdì, avrei visto, che mi scrocchiava sempre il braccio, quando mi allungavo, per truccarti, poi adesso, anche le caviglie, sono proprio rottame, a bene, ma questo anche prima, di invecchiare, anche da giovane, quindi è proprio perché sono io, un vampiro robot, e quindi va bene così, poi nello stereotipo italiano, come ci siamo accorti, in questo gioco, pomodoro e aglio, uguale frigo italiano, qua abbiamo messo anche la pizza, e il formaggio, proprio per rendere tutto più italiani, l'italiano possibile, secondo il loro punto di vista, non secondo la realtà, ma vabbè dettagli, posizioniamo le nostre pizze surgelate, e ovviamente c'è l'aglio, da abbinare insieme al pomodoro, per fare la nostra marinara, con la formaggio, come se non ci fosse un domani, e via di colesterola, io vorrei, poter spostare da un lato i pomodori, ma rotolano da tutte le parti, poi questo abbinamento di aglio e pomodoro, non l'ho ben capito, ma va bene, lo stesso ci adeguiamo, poi dopo mi sono accorta, che c'era un pomodoro, che qui non c'è, ma qui c'è, che è arrotolato dalla parte dell'aglio, e io volevo toglierlo, ma non me l'ha più fatto fare, allora mi sono rassegnata, e ho concluso così il livello, dai vuoi rendimi ricca, ti prego, no, no, vabbè, scarta la carta, scarta la carta, scarta la, yeah, il veliero, questo lo teniamo, molto bello, finalmente, finalmente qualcosa di carino, basta pubblicità, possiamo sì, possiamo finalmente, scoprire, in realtà qua, volevo farti scegliere a te, ma, plot twist, chissà cosa si nasconde sotto questo, le suole blu, ma come, solo a me sembrava una piscina, evidentemente sì, creatore, sono rimasto malissimo, potrebbero esserci delle tubature, o dei cavi, o semplicemente un buco, una piscina anche tipo, spero che sia una ossa di dinosauro, o magari un tesoro sepolto, allora, piano, se è un tesoro sepolto, a me va anche bene, al posto della piscina, ok, mi sarebbe piaciuta una fontanella, qualcosa di così estetica, però, se c'è un tesoro sepolto, ce lo teniamo, ce lo teniamo, lo nascondiamo, tipo tesoroti pirati, diventiamo anche ricchi, tutti in dublioni d'oro, però, saremo così fortunati, io dico, e mi domando, saremo così fortunati, di creatura, dato che, pensavo fosse una piscina, in realtà, era un lenzuolo blu, ok, e dato che è la terza volta, che faccio questo audio, saremo così fortunati, da trovare un tesoro, vediamo, intanto, dobbiamo sganciare, 42 diamanti, oltre a aver fatto anche, 5 stelline, e in più, a quanto pare, era solo noiosissimo, poco vuoto, molto bello, ma ora è un bellissimo giardino, sì, ok, però, non si lutano così le persone, cioè, va, e quindi, non sono riuscita a farti scegliere, la piscina, perché a quanto pare, non esiste, ma abbiamo, due stelle, e così, ne guadagno, altre tre, e ti faccio scegliere, la prossima, cosa, qua mi sono accorta, che erano due a due, le stoffe, e quindi, c'è la Sofia fuori, che piange, che non è una bambina, ma una gatta, e la gatta è vicino, questi qua, anche sono le cose, che predilico, posizionare, le stoffe, diciamo, un negozio, tipo una merceria, bella, mi piace, mi sembra già, mi sento già, molto più rilassata, ok, quello sotto, non me lo fa mettere, quindi, devo per forza, spostare, questi gomitoli, qua poi, sembravano calamitati, perché, io li volevo mettere, in un posto, e me li spostava, quindi, mi ricordo, che c'aveva un po' litigato, poi, mi sono accorta, dopo un po', che, ok, sì, era bella la sfumatura, ma, avevano quella parte, di plastica, bianca, e quindi, volevo, renderli, ero quella che non si spostano, volevo, creare, delle, file, così, però, poi, mi sono resa conto, che, forse, dovevo fare, le prime due righe, le prime due file, tutte con il gomitolo, con la parte bianca, sopra, e sotto, tutto il resto, però, poi, in realtà, me ne sono accorta, prima, quando sto facendo, il secondo audio, e quindi, niente, te lo becchi, così, come l'ho fatto, sono riuscita, comunque, a creare, delle belle sfumature, nonostante, Gio, però, con gli insunti, poi, l'avrei fatto diverso, perché, dopo, sapendo le cose, sai, si possono sempre, migliorare, però, lì, per lì, ho fatto così, ma, adesso, lo vedrai, insomma, creatura, 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 e vedi qua, capisci la situazione, qua, mi rendo conto, cacchio, è passare la moto, cioè, ecco, via, finiamo qua, con, le stoffe, completato, e via, e, adesso, si è formato, proprio, un motorino, rompicacchio, e so anche, chi è, è quello che abita sotto, quello che urla, scarta, la carta, scarta, la carta, eh no, eh no, è questo, proprio, è un complotto, contro di noi, cioè, veramente, senti, che rompi, le palle, anche col motorino, oltre a urlare, e bestemmiare, cioè, basta, io non faccio più, un quarto audio, eh, te lo dico, ah, finalmente è arrivato il tuo momento, di scegliere, creatura, e dovrai scegliere, la cosa a meno, no, in realtà, è importante come scelta, perché, non è solo una pianta, ma sono tutte piante, che circondano la casa, quindi è importante, per l'estetica della casa, dovrai, equilibrare le mie scelte, che sono state sempre brutte, allora abbiamo questa pianta, che sembra tipo, una palma, che deve crescere, con questa, farfallina viola, perché cambia anche il colore, della farfalla, poi c'è questa pianta, con questo bel vaso grande, e con la farfallina azzurra, che la vedrei bene, tipo, sembrano quelle piante, che scelgono, nei comuni, no, sì, esatto, tipo, la vedete davanti a una piazza, davanti a una chiesa, e poi c'è, ma non farti influenzare, dalle mie parole, c'è questa, questo cespuglio, con questi mega fiori rosa, e questa farfalla coniglio, perché coniglio, perché, sembra che abbia le orecchie rosa, e il corpo grigio, un colore strano, per una farfalla rosa e grigio, non l'avrei mai fatto, scelto questo abbinamento, comunque, i diamanti li abbiamo, non ti fa problemi, scegli la pianta numero uno, numero due, numero due, numero due, ok, o numero tre, o numero tre, o numero tre, ok, perché non so lì cosa stessi dicendo, sto ridoppiando, comunque, scegli quella che ti piace di più, come sempre, io ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao, creatura,